Pochi fotografi hanno uno stile così riconoscibile come David LaChapelle. Il suo utilizzo di colori puri, di ambientazioni fantastiche e personalità famose rende le sue immagini impossibili da dimenticare. La sua carriera inizia negli anni Ottanta come fotografo al fianco di Andy Warhol e ben presto si afferma come uno dei fotografi di riferimento per il mondo dello spettacolo, della musica e della moda. Nel 2006 decide di trasferirsi alle Hawaii e lasciare il suo lavoro di fotografo professionista, iniziando la sua carriera artistica. Dopo essere rimasto folgorato dal giudizio universale di Michelangelo, decide di realizzare un suo diluvio, De Deleuze, una gigantesca opera con protagonisti individui e idoli moderni. Una realtà truccata, caotica, eccessiva, ritoccata, ma così vicina a noi da diventare un mezzo per riflettere sulle contraddizioni della società contemporanea.